Seconda edizione di Sud Hospitality, il salone per hotellerie ed extra alberghiero. Siamo a Napoli alla stazione Marittima e l'edizione del 27 e 28 febbraio 2019. Seguite il servizio. Francesca Adabbo, responsabile marketing di Expedia Group. Francesca, un momento importante, fieristico, ma anche di incontro e di interscambio. Assolutamente. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrare gli albergatori napoletani perché vogliamo essere più presenti e più rilevanti sul territorio. Ci auguriamo che queste iniziative aumentino, migliorino e incrementino l'affluenza perché hanno bisogno sicuramente di essere incentivate, così come la presenza dei nostri amici albergatori. Telegraficamente il ruolo di Expedia insieme a questo comparto importantissimo per chi non è addetto ai lavori, chiaramente. Expedia è una auto, ovvero un online travel agency. Ci occupiamo di ospitalità praticamente da 20 anni e portiamo e costruiamo destinazioni insieme agli albergatori. Camminando nei corridoi, nelle parti, nei padiglioni di questa importante fiera tutta napoletana incontriamo Gianni Vannella, Tourist Manager. Gianni, come sta andando? La situazione sulla città di Napoli è in netta evoluzione. Siamo tutti attenti e siamo in attesa sempre di nuovi arrivi, ma soprattutto di nuovi mercati. Un mercato ormai in Napoli è diventato un luogo, un mercato nuovo, importante, un riferimento turistico internazionale. Abbiamo soprattutto interesse verso queste nuove rotte che la Ryanair sta prendendo sulla città di Napoli, nuove 27 destinazioni e quindi come facciamo in Cammin così faremo auto-going. Quindi insomma la preparazione nostra è sempre più attenta.